Generale, i titini stanno risalendo l'Istria. Presto avranno occupato la maggior parte delle città dei paesi. Sanno che il Duce è stato arrestato. Il nostro obiettivo è cacciare il fascismo. Da soli siamo troppo pochi. I titini sono una garanzia. Chi sono i nostri reati? E chi ci difenderà dai comunisti? Soltanto i tedeschi potranno aiutarci. Questo è sangue fascista! Lo stesso sangue di chi ha impedito di parlare la nostra lingua perfino nelle vostre chiese! Cosa volete fare? Sostituire il male di un'altra persona di una dittatura come il fascismo con un uguale o peggiore come quella del comunismo di Tito.